I bambini dai 3 ai 10 anni vivono in mezzo ad adulti che usano delle tecnologie, cioè dei giocattoli nuovi, che attirano la loro attenzione e li coinvolgono con foto e video messe online esponendoli talora a pericoli. Una educazione graduale a che cosa sono e a come usare questi giocattoli in modo adatto alla loro età è necessaria se proporzionata alla fase di sviluppo. Cominceremo formando atteggiamenti, degli atteggiamenti positivi per poi passare alla relazione con gli schermi e i robot e al loro uso sotto il controllo graduale dell'adulto, in un contesto di sviluppo armonioso attraverso il gioco e lavori collaborativi. Non dobbiamo interferire con i processi della loro crescita, ma affiancare attività adatte che suggeriscono che dietro questi schermi esistano altre realtà, compresa parte della loro personalità e che esiste accanto al mondo reale, un mondo virtuale fatto anche di giocattoli, robot, computer, che si possono esplorare per apprendere e per giocare. Per la fase dagli 8 agli 11 anni sceglieremo con i docenti dei filoni di buone pratiche già sperimentate, idee per brevi ricerche, materiali, video per stimolare delle riflessioni. Parleremo quindi di ricerca delle informazioni, di smartphone e utonti, dei social network e di tanto, tanto altro.